Complimenti, Rai. Allora, queste sono con patate. Con patate? Sì, patate e curcuma. No. Quest'arte? Mi viene dove? Corriano. Allora, queste senza niente, con l'italia termità, stanno con le patate e peccato. E prezzetto. Quella è la focaccia e bruchese. E queste qua con le erbe. Con le erbe? Sì, sì, queste qua con le erbe. Le erbe con il parmigiano e il cipolla. Bravissima. Siamo pure con le erbe. Con le erbe. Sentite quelle con le erbe stamattina. Buona. 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 Buona buona. Buona buona. Buona buona buona.